Un saluto il 23 agosto, buona giornata a tutti voi, vi invito come sempre a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi in questa zona, attivate la campanella. Ieri vi ho proposto una sorta di contest, in questo caso senza premi, cioè di taggarmi sui social mentre vedete Milanello, ma non io sullo schermo, cioè voi mentre vedete Milanello, quindi voglio vedere anche le vostre facce, fatelo così se vi va oggi sulla mia pagina Instagram o anche su quella di Milanello appunto. Vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di numero 10, abbiamo assegnato la seconda maglia, adesso in paglio ci sono due biglietti per la gara di sabato, la terza giornata di campionato, seconda gara in casa del Milan, sono due per il primo anello arancio, quindi zona ottima, trattamento top, scaricatela gratuitamente perché è l'app numero 1, perché è quella più scaricata ormai da settimane, perché ci siamo anche noi e perché ci sono premi costanti quest'anno con Milanello. Fatela scaricare anche a vice parenti così vi mettete d'accordo e andate allo stadio. Sabato appunto due di voi vanno allo stadio, scaricatela e scrivete qui sotto il vostro nome. Allora ragazzi, si avvicina, pensavo ormai che si gioca spesso, perché adesso il prossimo turno di campionato riprende venerdì, poi noi giochiamo sabato e si giocherà poi ogni tre giorni. Bene, bene così, abbiamo bisogno di calcio di Milan, noto. In generale il sentimento, non lo so, un po' particolare, ecco. Il polso è una temperatura attorno a questo Milan un po' tiepida e mi dispiace perché siamo la squadra campione d'Italia e perché il Milan ha bisogno del sostegno sempre, anche quando si è in vacanza, anche quando magari il mercato non ha regalato quello che vorremmo, sperando che possa arrivare qualcuno da qui alla prossima settimana quando si chiuderà. Quindi ragazzi, come si dice, alziamo l'hype, alziamo l'attenzione, alziamo il calore, viviamo insieme tutti uniti questa stagione che speriamo possa essere, perché no, ancora più bella della scorsa, non della prossima e io ci credo, ci credo. Detto questo, ovviamente bisogna parlare del bello, bisogna parlare anche di quello un po' meno bello. Nelle migliori famiglie ci sono sempre discussioni, se c'è qualcosa che non va è giusto non buttare la polvere sotto al tappeto ma affrontare, sedersi tutto a un tavolo, tutti attorno a un tavolo e capire dove sta il problema. C'è questo problema? Sì, per me no, per me sì, per me stiamo cambiando qualcosa che non va bene, per me tu dovresti porre più attenzione a questo aspetto. Ci si alza poi dal tavolo con più consapevolezza, più voglia di risultare performanti in famiglia, andare d'amore e d'accordo, in questo caso appunto sul campo. Lo sfogo di Sandrino Nostrotonali, non è passato inosservato, ovviamente noi non facciamo finta di nulla e siamo qui per parlare perché è stato uno sfogo importante. Lasciatemi dire innanzitutto che un ragazzo così giovane che si presenta davanti ai microfoni e invece di dire frasi banali si dichiara sì soddisfatto della prestazione ma fa capire anche che bisogna fare di più e che non bisogna sedersi sugli allori, secondo me fa capire ancora di più quanto sia importante questo ragazzo per la squadra e quanto, seppur giovane, stia diventando un leader del Milan. Lui è un grande milanista, sta diventando anche un leader di questa squadra, così giovane non è da tutti. Quindi, chapeau a Tonali che ha fatto bene a dire quelle cose, perché ovviamente quelle cose si dicono all'interno spogliatoio ma se le dici fuori non vuol dire non pulire i panni sporchi in casa ma fuori, ma vuol dire sensibilizzare ulteriormente tutti perché come ho già detto, questa cosa qui che c'è sulla maglietta di Milanello e sulla maglietta del Milan ovviamente prima di tutto è soddisfazione, è consapevolezza ma è anche ancora maggior responsabilità nei confronti della propria squadra, del proprio club, della dirigenza, degli allenatori, dei compagni di squadra e di tutto il popolo rosso-nero. Questo è un aspetto che evidentemente qualcuno non ha ancora assimilato. Dalle parole di Tonali si evince che c'è qualcosina che va rivisto, per chi non lo sapesse Tonali ha detto bisogna capire che questo è un altro campionato, siamo rientrati prima per sentire l'odore di Milanello e di calcio era un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi a lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan lasciare alle spalle questo periodo. È una cosa normale, dopo che si vince lo Scudetto si torna sulle ali dell'entusiasmo non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la trentanovesima giornata. In questo caso ragazzi, tanti mi avete chiesto con chi ce l'ha, che cosa si riferisce siamo qui per rispondere al nostro piccolo a queste domande. Tonali evidentemente fa capire che mediamente il gruppo, senza fare nomi, si è un po' seduto di fronte allo Scudetto sente un po' la pancia piena invece di avere ancora più fame ha perso qualcosa a livello di concentrazione, di cattiveria che invece nella parte finale della scorsa stagione era incredibile un dato, i due gol subiti nelle undici ultime partite che cosa significavano? Significavano massima concentrazione dall'attaccante al portiere e da chi entrava e da chi non entrava neanche perché erano numeri clamorosi tre gol subiti due partite ci dicono che c'è un evidente senso di discontinuità rispetto alla ottima concentrazione e lucidità che avevamo prima dalle parole tonali quei tre gol non sono casuali o certi errori sotto porta non sono casuali ma sono figli di un atteggiamento che è sbagliato e io dico una cosa ad esempio sui casi nello specifico avevo preso tre gol evitabilissimi tanti gol sono evitabili ma sul primo gol dell'Udinese le Aurebic dormono non sono sul pezzo non hanno quella cattiveria agonistica che avevano nella parte finale della scorsa stagione il secondo gol dell'Udinese è una dormita di Messias che poi andrà a sbagliare un gol facile può capitare il gol dell'altro giorno è una dormita un po' generale della difesa del centrocampo che non va a chiudere in questo caso anche Di Tonali stesso che magari arriva un po' in ritardo ha detto insomma anche lui che si poteva forse fare meglio detto questo casi singoli errori individuali che l'anno scorso nelle ultime 10-11 partite raramente abbiamo visto qualche volta sì perché anche qualche volta ci ha messo la manonna a Mignan dietro ma anche davanti io ho notato un Leao che aveva un po' gli occhi diversi mi sono confrontato anche con chi era allo stadio ed era proprio in quella zona mi hanno segnalato un Leao spesso con le braccia così correre un po' poco fare la fiammata e poi fermarsi riprovarci riprovarci e poi magari fermarsi ancora Leao di solito ha gioia negli occhi un po' come era Ronaldinho il sorriso non l'ho mai visto sorridere laddove il sorriso può essere qualcosa di negativo in generale uno sorride sembra scanzonato sembra un po' invece per lui il sorriso è un fattore di divertimento che porta poi benefici in campo era non so se svogliato stralunato scegliete voi non era al solito Leao e dico che secondo me Pioli ha sbagliato a toglierlo anche se non era un Leao straordinario detto questo nessuno 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 l'ho detto tre volte può vivere una sostituzione come un atto di lesa maestà non deve farlo Leao non deve farlo Girù non deve farlo nessuno è uscito un po' così tant'è che Girù è andato a salutarlo ci ha messo un po' a rispondere questo non va bene in generale e poi non dico che ce l'avesse soprattutto con Leao però certi atteggiamenti da star lasciamoceli alle spalle bisogna avere l'umiltà che avevamo lo scorso anno dal primo all'ultimo quando si dice dal magazziniere al più grande fuoriclasse che abbiamo in squadra e questo è un segnale importante perché non bisogna lasciare nulla al caso nonostante atteggiamenti magari un po' sbagliati giocatori ancora a livello altissimo di concentrazione abbiamo fatto secondo me una buonissima partita con l'Atalanta contro un avversario tosto in uno stadio difficile se ci lasciamo alle spalle certi errori che evidenzia Tonali evidentemente possiamo poi toglierci ancora più soddisfazioni rispetto allo scorso anno perché nella stessa intervista Tonali dice da quando sono qui questo è il Milan più forte quindi i valori ci sono si può arrivare ad alzare ulteriormente la sticella rispetto allo scorso anno all'inizio ha avuto qualche incidente di percorso chiamiamolo così ora ripartiamo da quella prestazione eliminiamo gli errori individuali di gruppo alziamo tutti l'attenzione al massimo come se fossero le ultime 4-5 partite la scorsa stagione quando non potevi sbagliare nulla e non abbiamo sbagliato nulla quindi è uno sfogo costruttivo dal quale bisogna capire è uno schiaffo che sicuramente fa bene che non descrive una situazione drammatica perché parliamo di una squadra forte che ha giocato contro Udinese la battuta ha paraggiato con l'Atalanta ma non bisogna accontentarsi non bisogna mai accontentarsi soprattutto quando ripeto è questa cosa qui sul petto bravo tonali che magari parlava anche a se stesso in generale voi poi potete individuare chi vedete un po' con un atteggiamento diverso si può parlare del caso singolo di errori ma in generale anche un po' di altro in allenamento massima attenzione tutti sul pezzo c'è più concorrenza e chi non gioca deve avere ancora più voglia di provare a far cambiare idea al mister tutti uniti fuori dentro anche in questo gruppo di Milanello e ripartiamo perché siamo abbiamo davanti 36 gare ovviamente nulla è compromesso anzi facciamo tesoro di queste parole che arrivano da un ragazzo giovane ma in questo senso molto intelligente e quindi a chi ha sbagliato a chi magari non ha dato il massimo oltre al post social bello che può strappare tanti like chiediamo risposte in campo con performance superiori soprattutto una concentrazione che deve arrivare dal primo all'ultimo in generale anche nel precampionato avete visto gol subiti pronti via significa che non sei sul pezzo con la testa non sei concentrato non deve più accadere è capitato troppe volte basta con l'Atalanta abbiamo avuto un ottimo approccio quindi abbiamo imparato dagli errori e adesso modelliamo anche altri aspetti che hanno bisogno di magari vedere i meccanismi un po' più oliati soprattutto di di non accontentarsi io a questa squadra chiedo concentrazione cattiveria agonismo fame la pancia è vuota si riparte con un nuovo campionato la pancia è vuota quindi dobbiamo andare a prendere a mangiare i nostri avversari con una fame incredibile ancora superiore rispetto a quella dello scorso anno bravo Tonali ragazzi quindi niente drammi però per vincere un campionato davvero bisogna curare tutti i particolari non bisogna accontentarsi di nuovo una prestazione comunque con l'Atalanta e bisogna cercare di sistemare il tutto uno sfogo che merita un applauso una condivisione dal quale bisogna imparare e io mi aspetto che possa essere uno schiaffo che sveglia un po' tutti magari che non hanno ancora l'occhio bene aperto su quello che deve essere il target cioè lo scudetto ditemi che cosa ne pensate come l'avete vista come vi vedete questo sfogo clamoroso o per certi versi sicuramente providenziale lasciate un bel like iscrivetevi qui scaricate l'app TDS due di voi si portano a casa o meglio uno di voi si porta a casa due biglietti due di voi vanno allo stadio per la partita di sabato contro il Bologna al primonello arancio un abbraccio e forza mina dai ragazzi alta concentrazione tutti perché vedo che anche dietro lo telescherbo non dico che non c'è attaccamento come prima però ragazzi forza 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 a tutti un abbraccio